La squadra che proviene dal massimo campionato di Serie A quindi al Manese, cosa è venire in Italia a giocare con una squadra che comunque è una grande famiglia? Sì, giocare in Italia, ritornare in Italia è sempre un piacere, quindi con la chiamata del Presidente ho accettato molto volentieri l'offerta delle classi. Com'è il calcio albanese rispetto a quello italiano? Molta più fisicità e meno tattica. Grazie.